a posto adesso cerco di entrarci dovrebbe iniziare in questo momento proprio vedo che sta per partire è così io la faccio partire anche di là dai se ce la fa il mio computer dovrebbe essere andata vero adesso non so perché mi ha messo ok per a mi vedo lì guarda che roba ok sì sì mi aspetta che adesso la condivido così almeno sono a posto ok pubblicato dovrebbe essere non ho modo di controllare ma adesso torno qua ok bene e io faccio anche una cosa comincio a registrare perfetto ok continuo ciao raffaele a tutti allora vediamo se ce l'ha ecco sì ti vedo ho visto sparire ho visto umberto è andato via e poi è rientrato eccolo qui eh sì magari anche le connessioni che sono un po così livio vuoi cominciare intanto a mettere la prima pagina perfetto allora vado eh sì allora adesso lo faccio lo metto già in con a no ecco sì però io devo ok però io cosa devo fare devo farlo partire subito in modalità presentazione sì fallo partire in modalità presentazione perché poi aspetta però devo largarla aspetta perché poi scusate sto tac adesso prevediamo di provarci eh ma altre però devo ah no ma è ok e non so come riuscire per ok come come riuscire a mettere in share screen aspetta allora ci provo scusate faccio un tentativo eh si vede ah ok perfetto si vede adesso in modalità non presentazione e adesso è così ok ecco perfetto perfetto sì va bene allora diamo giusto un secondo vedo Mario compagnoni non capisco perché vedo la sua finestra lì sulla destra ok allora io comincerei con una brevissima presentazione sì va bene intanto che arrivano anche gli altri partecipanti ci pensi tu allora va bene sì sì ci penso io allora eh buona serata a tutti quanti da parte del Cire dell'AIC eh siamo in in procinto di iniziare la presentazione della seconda puntata della serie un fiume alla volta questa sera eh Livio Leoni eh presidente CIR ci presenterà il Molivo River l'altra Africa l'Africa fluviale grazie Livio ti passo la parola va bene grazie a tutti allora buonasera a tutti grazie di questa opportunità che mi permette di parlare un po' di eh Africa l'altra Africa l'Africa fluviale quando Andrea Guerra mi ha sottoposto questa qua che è un po' una sfida di parlare dei fiumi ci ho ragionato un po' allora voglio presentare una delle mie vasche che una vasche che ho a casa eccetera che non è da tanto tempo che funziona ma è circa un annetto allora questo quello che presento stasera è un fiume che per noi è un po' come dire è un po' l'epigono di tanti fiumi dell'Africa il famoso Molivo River il fiume del Molivo eh allora parto dalla prima quando mi nasce questa idea questa idea nasce in realtà un congresso primaverile dell'AIC che è del 2015 alle onde presso Fanengo avevamo invitato quell'anno uno fra i grandi mostri sacri della coriofilia della ciclidofilia mondiale che è Uwe Werner che vedete lì a sinistra Uwe Werner lo conosciamo da lungo tempo eh da prima dagli anni novanta praticamente e lui ha come sapete benissimo alleva tanti cicli di Centro America Sud America e nell'ultimo periodo sta anche allevando Africa occidentale ci ha parlato dei suoi viaggi in Africa occidentale in particolare del Camerun eh qui presento questa diapositiva che avevo fotografato durante quel congresso vedete a sinistra Uwe Werner e a destra invece Michael Keeman che è uno che l'ha accompagnato spesso ed è fra gli animatori di questo West African Cyclists che è un gruppo in Facebook abbastanza noto e anche movimentato per quanto riguarda l'allevamento di questi pesci allora eh cosa che mi ha colpito eh lui durante questa conferenza molto bella eh dice questa frase che io mi sono segnato da nord a sud le acque del Camerun diventano sempre più tenere e acide e voi direte vabbè che scoperta eh no perché se a sud sono acide vuol dire che magari a nord eh non sono così tenere e acide quindi che pesci ci sono allora sono andato un po' a vedere lì vedete dove è posizionato il Camerun lo vedete proprio Africa occidentale piena tanto per darvi un'idea il Camerun è grande una volta è esteso una volta in mezzo l'Italia ci vi abitano eh quindici milioni di persone quindi c'è spazio lo vedete poi anche posizionato per quanto riguarda le altre nazioni eh a nord come si diceva prima quindi i fiumi presentano acqua che potremmo dire simile alla nostra acqua di rubinetto più o meno in realtà mentre andando verso sud invece diventano sempre più tenere e acide qua ho preso una vecchia cartina di un libro che poi presenterò dopo ecco qua tanto per darvi l'idea sono andato a vedere un po' ancora le regioni biogeografiche per quanto riguarda gli animali e anche per quanto riguarda i fiumi ehm dal punto di vista biogeografico il Camerun sì che è presente proprio in questa insenatura dove c'è LG eh è situato in una regione che è quella delle regioni eh in della Guinea inferiore intanto per avere un'idea notate qua anche in tutte in questa area tutte adesso vediamo se riesco a mettere la penna ma non ho idea se riesco a trovarla scusate opzioni puntatore sì eh puntatore laser benissimo ecco qua vedete questi sono tutti i fiumi di quest'area questa è la Guinea inferiore ok qua vedete i fiumi che interesseranno a noi questo è poi tutti gli altri fiumi nel resto anche del paese ma interessano abbastanza poco una altra cartina dal punto di vista fisico che può interessare perché eh è interessante dal punto di vista fisico perché c'è questa catena montuosa che in realtà è un vulcano sono dei vulcani anche l'isola di Biocco ha origine vulcanica eh eh questo vulcano questo monte che si chiama Monte Camerun che vedete qua è quello che interessa a noi perché dal Monte Camerun nascono alcune eh alcuni ruscelli alcuni sorgenti alcune acrocorrenti che saranno quelle interessanti per quanto riguarda i nostri fiumi da qua Moliwe River parliamo un po' del fiume Moliwe Moliwe River non è uno fra i grandi fiumi del Camerun eh del Camerun perché come vedete qui c'è una cartina che ho preso da uno studio del da uno studio che hanno svolto sui cicli di su quanto si spostavano i cicli di quanto erano imparentati fra loro nel Moliwe nel fiume ok vedete che quella barretta dà una lunghezza di 250 metri quindi voi capite che il fiume Moliwe è un fiume che non è un fiume immenso perlomeno per gli standard africani è un fiume veloce dove ci sono delle acque chiare c'è un substratto roccioso luccioso vulcanico ok eh praticamente si presenta sgombro da piante per quasi tutto il lalvio per tutto il letto perché le piante sono assolutamente posizionate come al solito sulle ride eh fuori dall'acqua Quali sono le fonti da cui ho preso un po' tutte queste informazioni? Allora fonti ci sono delle fonti storiche diciamo beh qui a sinistra vedo ho messo il grande libro le cicli di Africa occidentale questa è una versione che ho degli anni novanta ma ci sono state anche di Wolfgang Stechhorst Linke eh questa è la versione degli anni novanta la famosa della tetra pubblicata in italiano ce ne sono anche state altre più recenti ehm a destra c'è un classico invece solamente in inglese di Anton Lamboi invece si tratta più diffusamente è un pochino più aggiornato perché è data eh fine anni novanta mi sembra inizio anni duemila insomma eh tratta un po' meglio tutte le specie perché è un po' più aggiornato qui ho messo per Emiliano Spada se ci segue tutte le le autografi su questi libri che ho eh ma così tanto per altro libro invece datato storico è qualcosa qua a destra interessante le complete book outdoor secrets dove eh beh è datato perché è degli anni ottanta ehm degli anni ottanta e quindi fanno anche delle scelte discutibili c'è un bel nano chromis tra la sua istituzione copertina ho preso lo sfogliato però si danno anche del cioè come definizione cicli di nano qui viene compreso anche alcune specie grandi o anche dei grandi laghi ma molto grandi qualche milano chromis cose di questo genere quindi insomma diciamo proprio datato più recente invece è questa guida che è in francese pubblicata l'associazione francese ciclidofila questa invece tratta tutti diciamo i generi a livello mondiale di cibi questa è un po' più aggiornata perché è uscita mi sembra cinque o sei anni fa neanche ho preso qualche informazione anche da qua poi le informazioni sono sparse bisogna dire ci sono degli articoli delle riviste da cui uno può prendere in realtà io poi sono andato anche alle fonti visto che Andrea mi aveva detto se ti va prepara allora ho chiesto fotografie ad alcuni amici conoscenti che ho avuto la fortuna davvero di conoscere in questi anni di associazione Uwe Werner Uwe Werner allora mi ha mandato alcune fotografie del fiume allora capirete e questo è il fiume nel corso principale capite quindi che è un fiume piccolo è un fiume piccolo perché ha praticamente quattro metri di larghezza quando si trova in momenti di morbida quindi è dove c'è un po' di piena notate anche i dintorni come sono sembrano essere pesantemente ormai sfruttati dal punto di vista agricolo c'è palma d'olio di fatto che tutto il circondario mi ha detto Uwe tutto il circondario è stato praticamente è coltivato palma d'olio e questo vuol dire influire perché questa è zona era zona per lo meno di foresta vedete che qui si vedono alcune Anubias che escono l'Anubias e l'Anubias Barteri trovi Anubios Barteri per lo più da come mi è stato rifiuto allora Moliwe c'è la città di Moliwe ho chiesto anche ad altri Oliver Lucanus mi ha mandato per gentilmente qualche video qualche fotografia eh qualcosa anche lui di dove ha pescato dei pesci questa è la città di Moliwe come vedete questo è il corso d'acqua e qui mi ha andato dove lui ha pescato dei pesci qua nella zona dove vanno eh lo vediamo qua ecco questo è il punto esatto questa è la zona dove le donne vanno a lavare i panni nel fiume eh quindi è una zona assolutamente lungo la strada perché ci devono arrivare le donne per lavare i panni e questa strada adesso attualmente probabilmente è interrotta perché il Camerun è in un momento diciamo di scarsa tranquillità per la guerra o altro e vedete è un fiume abbastanza stretto come dicevo prima e quindi essendo anche stretto sarà poco profondo anche Michael Keeman mi ha mandato alcune fotografie ma possiamo capire che ormai ci fanno vedere una situazione nota nota perché perché il fiume è stretto eh pochissima vegetazione all'interno acque veloci lo vediamo qua questa probabilmente è una zona un pochino di rapida eh qua vediamo anche poco profondo e anche qui ancora molto stretto tutte le zone ormai come vedete che sono coltivate quello che sembra essere palma palma d'olio ecco ho anche qualche video speriamo che adesso funzioni vediamo scusate devo cambiare forse il puntatore per far partire eh opzioni puntatore no eh scusate qua opzioni freccia automatica no visibile ecco qua faccio partire questo video questo è un video da esterno speriamo che funzioni allora questo è un video da esterno possiamo capire che l'acqua è abbastanza veloce e vediamo una situazione se facciamo finire magari un attimo ok è una situazione di ambiente roccioso come dicevo io prima con le annubias che stanno fuori come dicevamo prima quindi roccia corrente veloce e eh piante esterno ok qui ancora ci sono anche altre immagini però ormai abbiamo capito più o meno come l'ambiente parametri dell'acqua ok moligwe eh i parametri dell'acqua vi ricordate che io ho fatto tutto questo ragionamento perché avevo sentito quella frase detto da Uwe Verna durante la conferenza allora Uwe Verna è stato talmente gentile da mandarmi per esempio questo qua è uno eh sono i suoi sono i suoi eh parametri che ha rilevato vedete qua qui siamo 19 febbraio 2015 alle 11 e 30 la temperatura sono 27 gradi e 6 una conduttività microsimers su centimetro eh di 248 pH 8 e 24 notate ossigeno disciolto abbastanza elevato la pressione poi ci sono i solidi organici i solidi disciolti insomma beh 8 8 e 24 insomma devo dire che è un pH che ci può stare la conduttività 200 per le acque che ci sono dalle mie parti e basta però ci si può lavorare quindi arrivare qua eh mi ha messo anche Uwe Verna alcune specie che ha trovate ma sono le specie che ci sono venitocromis microdossalis, hemicromis elongatus, predica cromis particolivus bologhia, porcattopus similis e la wowus e la teristriga se andiamo a vedere di fianco invece queste sono informazioni che ho tratto da uno studio ma vedo che adesso mi sono dimenticato di mettere i riferimenti eh notate anche qui è sempre in Moliwe, l'ho preso da uno studio la descrizione biotope è un corso d'acqua di 1-2 metri di larghezza, alcune piante eccetera, profondità 60-80 centimetri, vegetazione acquatica nessuna temperature dell'acqua 24 gradi centigradi e mezzo il pH è 7-10 la conduttività siamo 70-69 microstimio su 6 centimetri ok, colorazione chiara il movimento è forte qui siamo a gennaio è solamente un mese di ferenza, però bisogna capire dov'è, io questo non ho in riferimento mentre quello di prima di Uwe Verne, Moliwe River è l'inbe, l'inbe è praticamente dove anche Lucanus ha pescato i suoi pesci è quella perché è la strada che passa di fianco alla città di Moliwe Michael Keeman mi ha mandato alcune fotografie di pesci che ha catturato lì come vedete questi sono dei Pelvicacromis Cribensis proprio in Moliwe possiamo notare il maschio perché in questi cromidotilapini c'è un dimorfismo sessuale abbastanza elevato il maschio è più grande la femmina è più piccola è anche un dicromatismo la femmina generalmente è più colorata poi vedremo che questa popolazione ha anche alcuni tratti caratteristici la puntinatura sulla caudale del maschio anche quella della femmina che sono abbastanza determinanti anche se poi non è sempre così facile distinguere soprattutto nel caso delle femmina questo invece è un Benitochromis Nicrodorsalis questo è un maschio vi dico già come si fa a riconoscere un maschio ci sono due cose da guardare in genere nei Benitochromis è primo la puntinatura nella caudale la puntinatura nella caudale questa è tipica dei maschi e secondo anche il fatto che non ci sia una striscia continua nella dorsale ok questo proprio dice che non che non che è un maschio ecco posso far partire un secondo video perché adesso abbiamo visto un po' come all'esterno adesso avevo cercato di ricostruire l'ambiente io non sono proprio uno che cerca il biotopo a tutti i costi anche perché credo che ricordare un biotopo nelle nostre vasche non è così facile però questo è un video che ho trovato sul gruppo West African Cyclists che è abbastanza interessante e mi hanno dato il permesso di utilizzarlo in questa sede ecco qua questi sono Benitochromis Nigrodorsalis qui vedete alcuni esemplari che stazionano la velocità è elevata e questo è un'emicromis elongatus questi qua giallini sono degli micromis elongatus più grandi che è l'altra specie civile che può essere vista una delle tre diciamo qui vedete corrente elevata substrato roccioso con molto detrito e molto e alghe praticamente non ci sono rifugi e ripari in questa situazione e all'aperto tu cosa trovi trovi emicromis elongatus e trovi Benitochromis Nigrodorsalis i Pelvicacromis e Cribensis in ambienti di questo genere da quanto si legge da quanto mi è stato riportato sono già più rari perché Pelvicacromis preferiscono un attimino le zone più riparate poi non è detto che non si possono vedere anche qua notate un bossolo credo che sia un bossolo da caccia quello lì tanto per avere un'idea quindi il Cameroon come l'Italia qui vedete questi banchi di Benitochromis Nigrodorsalis che al di fuori in genere del periodo riproduttivo si addensano assieme e anche un po' anche il numero cospicuo e anche con un po' di emicromis elongatus ok? posso andare avanti? allora quindi questo è un ambiente che ho visto certamente sono rimasto un attimo perplesso perché voi capite che riprodurre un ambiente di questo genere in acquario vuol dire tenere pochi pesci scusate vado avanti ok quali altri pesci ci sono distribuiti in in questo biotopo allora un ghiuzzo i ghiuzzi sono una famiglia che assolutamente per numero di specie è superiore addirittura ai cicli quindi anche nel Moliwe c'è questa specie che ha Awaus la Teristrica ok non capisco se ci sono delle domande scusate un attimo va a scatti ah ok ok allora scusate questo ghiuzzo è diffuso un po' lungo è africano è diffuso lungo la costa atlantica ma diciamo fa parte della regione della guinea inferiore è una specie d'acqua dolce ha un fidro ma cosa vuol dire che praticamente passa una parte della proprio ciclo vitale in acqua dolce e anche in acqua marina praticamente i giovani di solito sono di acqua marina poi trasmigrano in acqua dolce generalmente questo ghiuzzo vive sui fondali sabbiosi quindi in acque chiare quindi tipico quello del Moliwe a volte arriva anche in fiumi più grandi non è una specie in genere molto presente negli stini però a volte c'è sicuramente abbastanza sfidante e diventa anche abbastanza sfidante per quanto riguarda la riproduzione in realtà ho tenuto dei ghiuzzi li ho allevati non sono difficilissimi però sono caratteriali bisogna avere delle vasche anche di una certa dimensione anche di un certo tipo di ambiente altri scusate non va più ecco qua i killifish un altro pesce presente un'altra specie è un killifish le piplatesi infrafasciatus è una specie di grandi dimensioni questa è di grandi dimensioni vive non tanto nel corso principale anche se può trovarsi nel corso principale ma vive soprattutto nei rigami sempre è di foresta è di foresta quindi è legato qua alla foresta primaria può avere dei gruppi può vivere in gruppi poco numerosi come vedete le analisi dell'acqua danno sempre un pH in questo caso basso con delle durezze abbastanza basse con delle temperature abbastanza variabili ok un altro invece ciprino d'ontide che troviamo in questo ambiente che secondo me è bellissimo è un pesce veramente delicato da allevare vedete la distribuzione sempre un po' lungo l'Africo occidentale anche se meno ristretto specie che altre specie è sempre una specie da corsi d'acqua secondari quindi un po' più piccoli diciamo anche se anche qui può trovarsi in ambienti più grandi è da corrente veloce è da corrente veloce come mai è delicato sembra che sopporti veramente poco gli sbalzi di temperatura di qualità dell'acqua e anche di valori di pH alcuni acquariofili mi hanno detto che già solamente gestire un cambio d'acqua può diventare difficile con questa specie perché tu fai un cambio d'acqua del 20 15 per cento 20 per cento e questa specie può risentirne quindi non è una specie per tutti nel Moliwe ci sono anche dei ciprinidi ci sono tre specie di barbus che adesso però hanno cambiato genere perché i barbus africani ormai sono stati messi in sono stati suddivisi in tanti generi uno dei più cospicui è Enteromius che prende tutta una serie di barbi di media dimensione diciamo che è Calipterus Enteromius Calipterus Calipterus vuol dire dalle belle ali obiettivamente questi sono degli esemplari che ho io nella vasca proprio nel Moliwe dopo circa un anno quasi un anno e mezzo di allevamento iniziano a mostrare un po' di rosso sulle pine certo non sono delle specie particolarmente colorate però hanno il loro perché secondo me come vedete dalla distribuzione è una distribuzione molto grande molto ampia perché Vanalgana Costa d'Avorio Senegal Camerun Guine Equatoriale ok come si riconoscono si riconoscono i Calipterus perché hanno questa macchia nera nella dorsale molto evidente molto evidente oddio ci sono anche altre specie che possono avere una livra di questo genere però questa è abbastanza caratteristica nel Moliwe ci sono altre due specie di Enteromius l'Enteromius Campatacanthus e l'Enteromius Trispilomimus in commercio sono in genere mi pare presenti più raramente però non so dire perché io in realtà avevo acquistato alcuni esemplari di Enteromius Campatacanthus li ho acquistati da un negoziante facendomeli ordinare seguendo i listini dei grandi importatori europei perché allora li ho acquistati perché volevo metterli nella vasca a costa d'avorio con gli emicromis che mi aveva portato Francesco Zezza in realtà mi sono accorto che gli Enteromius sono delicati i Barbus i cipridi sono delicati per quanto riguarda il trattamento e anche per la scelta dei coinquilini gli emicromi si sono rivelati primo di tutto dei pesci un po' troppo rustici per la convivenza con questi Barbus con questi Enteromius e poi io ho avuto alcune perdite e allora li ho trasferiti tanto per dirvi allevo anche i numerosi di Alestidi che sono ritenuti di specie un gruppo molto esigente ma io di Alestidi non ne ho mai perso praticamente uno di Barbus di Enteromius invece ho avuto diverse perdite e non mi è ancora chiarissimo il perché vi mostro questi è nella vasca a Molywe appena messi i piccolini i piccoli Calipterus quindi questo risale più o meno a aprile dell'anno scorso che iniziano a combattere un po' tra loro vedete qua eccoli qua che combattono fra loro questi sono proprio giovani giovani però il punto nero con la pina dorsale rossa è già abbastanza evidente ok eccoli qua io ho un gruppetto adesso attualmente nella mia vasca a Molywe di 8 erano i primi approcci che vedevo loro sociali mentre prima erano proprio giovani e facevano solamente un compatti e stavano su compatti e basta ok ho un secondo video spero che i video procedano meglio come velocità a questo punto è un altro tipo di ambiente sempre del Molywe però con una specie che poi non alleverò ve la mostro perché secondo me è interessante ci sono dei piccoli notate sul fondo c'è un gruppetto sono dei cicli notate molto detrito molto fango molte alghe ok è fango praticamente eccolo là emicromis elongatus questa è una delle tre specie di cicli che ci sono nel Molywe nel fiume Molywe è una specie però ecco la vedete il genitore che è venuto a scacciare evidentemente questo emicromis elongatus che si è azzardato in questa zona e sotto ci sono sempre i piccoli è una specie abbastanza esigente da levare perché è esigente non perché sia particolarmente esigente per qualità dell'acqua e altro ma è caratteriale molto aggressiva ha bisogno di vasche molto grandi il problema è trovare una coppia affiatata in cui il maschio non uccida ho report per esempio di amici che se ne sono comprati una decina ne è rimasto uno solo perché i maschi hanno ucciso tutti e c'erano anche le femmine non vanno allevate in meno da cinque in vasche inferiori ai 500 litri poi ci possono essere dei casi in cui si è riuscito a riprodurre in vasche più piccole però è proprio una rarità alcuni amici che li allevano dicono che li tengono insieme la coppia la tiene insieme solamente durante il periodo riproduttivo e poi li separa subito è un pesce affascinante comunque un grande predatore notate appartiene al gruppo degli micromis dai five spots alle cinque macchie è un pesce che diventa anche abbastanza colorato è un bel pesce io però questo l'ho subito scartato perché la mia vasca è una vasca piccola da 90 cm quindi impensabile avere degli micromis lungatus in quella vasca dedicata al moligue notate proprio come sorveglia attivamente e non si vedono altri pesci in giro se c'è un altro micromis che passa i piccoli che non sono più neanche tanto piccoli sono relativamente compatti direi c'è qualche pianta sommersa qua e là ma non riesco a capire cosa sia probabilmente potrebbe essere la Nubias ma non mi è chiaro vedendo da qua è un bel ambiente questo mi piace già il five spot è veramente bello probabilmente dovrebbe essere una femmina secondo me le femmine sono più sono più ottente sì qui il video va avanti con la difesa sempre come dicevo prima sono tutti riprese in natura queste questo è Michael Kim anche me l'ha mandato qui è un po' più profondo però non tantissimo scaccia e rimane lui five spot vado avanti ok uve verne poi mi ha mandato anche un altro abitante del fiume un granchio non conosco onestamente la specie e mi sono pure dimenticato di cercare di identificarla a questo punto abbiamo più o meno presente la comunità di pesci che abitano il Molliwe River allora io mi sono mosso ho detto va bene progettiamo la vasca ok tutto nasce perché quando ho compiuto i 50 anni ho iniziato a cambiare il parco vasca e con la moglie ho detto ma no ci sta bene un nuovo acquario nuovo eccetera allora ho fatto la vasca che vedete in basso a sinistra è un po' più grande di un metro cinquanta la moglie è incredibilmente rimasta contenta allora c'era di lì un cantuccio e ho messo la seconda vasca piccolina questa è una vasca di 89 centimetri perché deve starci esattamente di 50 centimetri di larghezza e l'ho fatta praticamente di 70 di altezza 60 è di fatto il livello dell'acqua io amo la sabbia poi nel Molliwe ci va la sabbia allora ho introdotto uno spessore di sabbia insomma non bassissimo neanche elevatissimo qualche roccia e una bella radice con delle anubias la vasca poi ecco qua io ho un filtro esterno da 1200 litri per una vasca che di fatto siamo su circa quasi 300 litri quanto quindi 1200 per questo 300 litri e poi io ho messo una pompa di movimento circa questa qua da 2000 litri orari quindi non è esageratissima però c'è della corrente in vasca c'è della corrente in vasca ok poi parlerò anche un attimino della gestione della corrente perché è interessante allora partiamo dai cicli di che volevo introdurre allora i cicli di che volevo introdurre che sono i Belvicacromis e i Bintocromis appartengono a una tribù della sottofamiglia degli pseudocrini labrini quindi la famiglia dei ciclidi può essere divisa in varie sottofamiglie ok questa sottofamiglia pseudocrini labrini ok prende il nome dal genere pseudocrini labrus e all'interno Greenwood nel 1987 ha diviso delle tribù delle tribù cromido-tilapini ai cromido-tilapini appartengono dei cicli di che hanno delle dimensioni piccole e medie quindi siamo sui 12 centimetri 15 ok che vivono tutti in corsi d'acqua di foresta sono caratterizzati la maggior parte di questi da dicromatismo inverso cosa vuol dire le femmine sono più colorate questa qua è un'altra specie che levo io a casa in un'altra vasca è la cromido-tilapia gunteri della popolazione in Nigeria ok quella in alto è la femmina è la femmina come si riconosce la femmina fondamentalmente si riconosce quando ha raggiunto la maturità sessuale perché la dorsale porta una banda molto più colorata che è continua ok e in genere anche la pancia il ventre è più rosato però questo del ventre rosato non è una caratteristica così generale quello sotto in basso è il maschio come vedete manca della banda scura della dorsale anche in questo caso manca un po' del ventre rosato però a volte sviluppa delle colorazioni rossa astre diciamo così nei cromido chilapini ci sono troviamo alcuni fra i generi che ne amiamo di più pelvica cromis nano cromis congro cromis finito cromido l'accio cromis meno che i cultori dell'Africa occidentale ama io parto dai pelvica cromis i pelvica cromis qui ho messo delle cartine che prendono alcune specie la diffusione di alcune specie come notate non entrano mai all'interno dell'Africa allora la diffusione del pelvica cromis prende circa i 30 chilometri di costa quindi lungo i ruscelli costieri è una specie legata proprio alla diffusione delle acque dolci lungo le coste allora vado avanti ecco i pelvica cromis dicevo che vivono nei corsi d'acqua forestali quali vi troviamo dalla Guinea fino al Congo Repubblica Democratica del Congo in origine nel gene pelvica cromis c'erano due grandi gruppi era il gruppo pulker quindi pulker suboccellatus Cteniatus e il gruppo pedicacromis humilis il primo gruppo erano le specie un po' più piccole regione meridionale dell'areale mentre il gruppo humilis sono quelle più slanciate più lunghe sui 12 centimetri e anche decisamente più crestine poi negli ultimi anni questo secondo gruppo è stato smembrato in vari generi te ne so humilis è finito in Wallachio cromis oppure c'è si è visto anche sorgere Congo cromis c'è tutta una serie di altri generi una cosa che ci tengo a sottolineare è che quando leviamo pelvicacromis non dobbiamo fornire mangime eccessivamente carico dal punto di vista delle proteine cioè un mangime molto ricco perché i pelvicacromis si nutrono fondamentalmente di detrito quindi anche dare da mangiare tutti i giorni può stressarli eccessivamente poi io so che sono dei pesci di battaglia in genere anche se stiamo parlando spesso di varietà di selezione di allevamento però cosa vuol dire vuol dire che tu magari hai i tuoi che sono diciamo di forma selvatica e quindi magari allevati in acquario da pochi anni altro gli dai dei mangimi troppo carichi troppo ricchi non hai molte riproduzioni per esempio non è solamente una due dopodiché entrano in stasi per lungo tempo oppure deperiscono quindi occorre davvero occorre davvero stare un po' parchi nel cibo e non fornire alimenti troppo carichi e poi ancora una volta ripeto occorre un fondale di sabbia perché i pelvicacromis passano quasi tutto il loro tempo rovistando sifonando setacciando la sabbia alla ricerca di particelle alimentari queste sono due femmine del crebensis molywe sono due femmine differenti perché notate prima di tutto i molywe la popolazione di molywe si riconosce per questa puntinatura scura nella dorsale delle femmine per questa area così metallica però e anche per il fatto di questo peduncolo nerastro qua il problema è che con molte popolazioni di crebensis le femmine sono più o meno simili questo è un video di risale a dicembre 2018 la vasca quella molywe che io l'ho impiantata a marzo tra febbraio e marzo e poi diciamo fine febbraio io avevo già acquistato perché avevo visto che erano stati offerti allora non ho saputo resistere e ho acquistato i pedica cromis dal negozio me ne sono fatti arrivare di fatto e li ho acquistati a dicembre come avevo già fatto partire anche il filtro a dicembre montando su un'altra vasca già in funzione quindi ho messo per un periodo limitato di tempo questi i pedica cromis che vedete adesso faccio partire il video che erano arrivati da un giorno quindi ancora una livrea che è una livrea ancora un po' di spavento diciamo di sottomissione anche gli enteromius appena arrivati li erano fatti arrivare a dicembre perché ho detto li butto lui questa è un po' la vasca a costa d'avorio con della valle sneria un po' di sabbia un po' di sassi eccetera anche qui c'è tantissimo detrito come vedete sono molto giovani ok vado avanti questa invece è quando la vasca è maturata perché quando mi è arrivata la vasca sono riuscito a impiantarla allora ho spostato il filtro che andava già da dicembre quindi è arrivato a fine febbraio la vasca è riuscito a impiantarla a fine febbraio ho fatto l'ho fatta maturare col filtro già funzionante da mesi per tre settimane e dopo di che ho immesso i pesci che mi ero fatto arrivare questi sono in vasca come vedete hanno già cambiato il colore questo è il corteggiamento della femmina la femmina cambia proprio molto il maschio è diventato molto bello secondo me vedete la femmina si presenta al maschio presenta il questo pancio colorata ci sono queste strisciate nere che evidenziano il viola del ventre non è ancora chiaro dicevo prima come mai c'è questo di cromatismo inverso cioè le femmine sono più colorate ultimamente la teoria che va per la maggiore che serve a calmare i maschi in realtà questo pervicacromis sembra davvero maschio sembra davvero molto tranquillo troppo cioè proprio della femmina non gli interessa nulla sembrerebbe di vedere allora i pervicacromis cribensis sono diffusi dove allora dicevo pervicacromis è cribensis l'unboy di recente nel 2014 ha rivisto tutta la classificazione dei teniatus i teniatus del Camerun non sono stati tutti tranne una popolazione quella di Vaur del fiume Vaur è stata assegnata alla specie cribensis mentre la popolazione di Vaur è stata assegnata invece alla specie drachenfelsi ok i cribensis del Moliwe sono i più semplici da allevare perché sono i più semplici prima di tutto vivono in acque con un pH che varia ma può essere basico e sono anche le popolazioni in cui è anche la popolazione in cui il maschio raggiunge le dimensioni più elevate ok poi non indifferente è il fatto che relativamente di frequente è possibile fare delle importazioni dall'Africa di selvatici quindi rinsanguare gli esemplari che sono presenti sul mercato che sono riprodotte dagli allevatori cosa che non è da sottovalutare questa l'altra specie che io invece volevo perché io ricordo volevo ricreare è riprodurre l'ambiente del moligue l'elongatus l'ho eliminato però il bignito cromis è una specie che rimane ancora più o meno di quelle dimensioni allora ho introdotto avevo acquistato ma questo già da novembre alcuni esemplari perché li ho visti offerti in commercio li ho fatti arrivare da un negoziante li ho acquistati e hanno dovuto acquistare un piccolo gruppo che si è rivelato tre maschi è una femmina anche qui queste sono due foto prese nell'acquario come vedete prima di tutto ho messo anche qualche altra pianta allora questo è un crinum crinum calamistratum in commercio esistono alcune specie di crinum però ci sono le specie asiatiche è una specie che ha un bulbo una cipolla è thianum è quella asiatica e quindi l'ho eliminata in commercio si dovrebbe trovare la natans e calamistratum natans è quella proprio tipica del moligue ma assolutamente è da tempo almeno è da circa quasi un paio d'anni che la sto cercando ma non la trovo allora alla fine ho introdotto il calamistratum che dovrebbe essere anche una specie che non viene mangiata in realtà non è proprio così vero perché un ufficio vi lo mangiano qui vi notate questa è la coppia durante l'incubazione orale adesso vi mostro col puntatore se riesco a riprenderlo eccolo qua di nuovo questa è la femmina quindi potete notare la dorsale con la banda nera continua ok il ventre rosino però notate che è rosa anche il ventre del maschio però notate che qua la banda non è così scura e continua come nella femmina e poi notate la differenza di vermicolatura di pontinatura nella caudale del maschio mentre invece nella femmina manca questa è la coppia dell'incubazione orale però i piccoli le uova le sta portando il maschio perché notate il rigonfiamento qua della della bocca ok Benitochromis è un gruppo di sei specie che sono diffuse sempre in quella reale Camerun Nigeria Gabon le specie descritte sono sei in realtà qui notate a destra questo poster che è stato sempre prodotto dal gruppo West African Secrets le popolazioni sono molte di più sono molte di più alcune sono senza nome o perlomeno cercano ancora una classificazione di essere sistemate sono delle specie incubatrici orali però sulle sei descritte perlomeno cinque sono vofile una larvofila quindi cosa vuol dire la larvofila che aspetterà la schiusa delle uova sono specie di facile allevamento tutte praticamente per quanto riguarda i parametri dell'acqua solamente una mi sembra che richieda per la riproduzione dell'acqua acida e tenera tutte le altre si producono anche in acqua di rubinetto delle mie parti quindi è abbastanza dura il problema è un po' l'aggressività intraspecifica perché occorre che si formi una coppia abbastanza affiattata quindi devi partire da un gruppo di giovani ampio non conviene allevare benito cromis come fai con i pebbica cromis i pebbica cromis gli dedichi una vasca allora la coppia basta e puoi anche imporre le coppie qui non è possibile in una vasca dove c'è solamente la coppia finirà che più delle volte che se tu proprio non è affiatatissima ma anche qui il legame di coppia non è che se resiste sempre anche fuori al di fuori dei momenti riproduttivi nei momenti non riproduttivi le scaramucce ci sono e quindi o tu hai una vasca grande molto grande oppure molto strutturata quindi con tanti ambienti tanti pesci con cui questi si possono distrarre oppure altrimenti tu non ce la farai ad allevarli quindi la mia vasca con i pebbica cromis gli enteromius calipterus che io mi ero reso conto che con gli emicromi non andavano bene poteva essere l'ideale allora cosa sono andato benito cromini di grado salis è la specie che trovi più frequentemente in commercio ok è la specie con cui si ha meno pericolo di avere ibridazioni perché è abbastanza riconoscibile anche la più diffusa perché il problema di queste popolazioni con i pebbica cromis soprattutto anche spesso gli elevatori e gli importatori primo fan cadere le località geografiche non tengono il nome delle località di chiedimento non hanno modo non interessa ok e secondo e anche non secondo le incrociano le incrociano ok allora i moligue è praticamente il nigrodorsalis del moligue è praticamente una delle poche specie in commercio allora sei abbastanza sicuro certo non c'è la certezza la certezza la avresti solamente nel momento in cui vai a acquistarle da un allevatore che gli ha catturato i genitori in natura ok allora io sono andato su queste specie la nigrodorsalis del moligue perché è riconoscibile abbastanza e anche la cribensis moligue perché anche questa è abbastanza riconoscibile da una delle più diffuse ho voluto agire proprio come l'acquariofilo ok il ciclofilo che va in negozio questo qua a destra è sempre una fotografia di libro di Steck e Linke degli anni 90 come vedete è un benito cromio nigrodorsalis maschio ormai lo riconoscete la dorsale con la banda non continua non così nera e la puntinatura nella caudale però se guardate il titoletto della pagina è classificato ai tempi come cromidotilapia Finlay varietà di colorazione moligue sì perché negli anni 90 c'era ancora una certa confusione ok mentre adesso negli anni Lamboi praticamente l'ha descritto come una specie a parte la diffusione è limitata camera occidentale e poi anche l'isola quella vulcanica che era al di fuori nel golfo di Guinea e qua dice un incubatore orale ovofilo ovofilo cosa vuol dire vuol dire questo allora scusate io qua se riesco ad andare avanti non riesco più ad andare avanti devo togliere il puntatore non riesco a togliere andiamo bene ok non va avanti ok scusate ecco qui alcune fotografie di esemplari catturati in natura da importati legalmente da Uwe Werner come vedete sono belli sono belli relativamente simili ai miei perlomeno ok eccolo qua ovofilo vuol dire questo che loro depongono le uova queste vengono incollate per bene a un substrato che generalmente è roccioso in questo caso mi sembra roccia ancora anche questa dopodiché il maschio prende le uova in bocca almeno io ho visto sempre il maschio prende le uova in bocca però non è detto che sia la regola qui ci sono dei piccoli a destra ecco questo era in una vasca dove le avevo sistemati quando si era formata la coppia mi hanno deposto come vedete scusate le foto orrende ma era fatta col cellulare per questo qua è una delle vasche che tengo in ufficio a scuola ma adesso sono in lockdown ok quella vasca spero che stia procedendo decentemente depongono hanno deposto ho assistito hanno deposto tutte le uova era la prima deposizione erano molto poche il maschio poi ha preso le uova in bocca ecco questo è un altro video ripreso nel mio acquario tanto per darvi un'idea si vedono gli enteromius si vedono anche qualche altro pesce e lì c'è la coppia questa qua è una riproduzione quasi di un anno fa vedete questa è la femmina no questo è il maschio è il maschio che sta curando i piccoli che vedete là che sono alla base del crinum vedete la femmina adesso io mi avvicino un po' troppo quindi i genitori iniziano un attimo ad allarmarsi perché se io volevo fare il filmato volevo fare il filmato di tutti i costi volevo fare il filmato e allora iniziano ad allarmarsi e richiamano i piccoli ecco hanno questo caratteristico modo di vibrare che è proprio per richiamare i piccoli e voilà sono scomparsi tutti come vedete io tengo altri pesci qua dentro anche qua questo è un video un po' più recente lo faccio partire è un video più recente nella vasca come vedete qui i piccoli sono pochi perché poi ovviamente crescendo non è così facile e io devo dire ultimamente ho preso dei ne ho prese qualche volevo salvare una covata perché non vorrei perdere la popolazione la specie ok ed eccoli come vedete però non ci sono anche in acquario molti pesci che girano attorno più due volte i danni li ho fatti io perché avvicinandomi i pesci i genitori scappavano e gli altri ahimè hanno fatto strage ecco qua questa è una fotografia del maschio con un piccolo sotto che sta mangiando un po' di detrito e a destra un altro piccolo invece all'età di tre mesi era l'unico sopravvissuto di quella covata che io ho lasciato completamente in acquario e tuttora ha sette otto mesi ve lo vedete dopo in un altro video i pervicacromis i pervicacromis nel frattempo mi sono accorto che in quella vasca non funzionavano bene cosa vuol dire non funzionavano bene ho sbagliato io è una vasca sui 90 cm troppo piccola per queste due specie benedocromis sono una specie di aggressività non così elevata però pericacromis nella scala di aggressività si situano sui gradini inferiori allora cosa ho fatto li ho tolti e messi in una vasca più piccola e questi mi hanno premiato dopo un po' vedete questo è il maschio qui c'è un sacco di detrito perché questa vasca è quella in ufficio non ho molto modo di fare una manutenzione più che adeguata però come vedete i peci ci sono i piccoli ci sono mangiano maschi e femmina ok e devono cibarsi per lo più di detrito per lo più di detrito questo è quando cambio l'acqua in questa vasca in ufficio quando riuscivo ad entrarci una volta ogni tre settimane quindi non di frequentissimo mentre invece nelle vasche a casa vado più decisamente con due cambi ogni settimana di circa 90 litri e questa invece è l'altra la femmina come vi notate poi si perdono le bande nere trasversali e rimane questo pancino viola che serve da riferimento per i piccoli anche se a fare da riferimento credo che sia un po' più soprattutto le ventrali scure è quello legato al movimento sempre un po' a scatti della femmina la popolazione del Molliwe di Bavica Cromi si riconosce per questa puntinatura che non è mai eccessiva di puntini neri nella dorsale nella caudale allora mi cambia ho tolto i Pervica Cromis è un ambiente di corrente come vi ho detto prima però crescono le alghe perché ovviamente cosa succede che crescono non è un ambiente dove riesco dove ho intenzione di mettere anidia carbonica le anubias sono piante a crescita lenta quindi ci sono un po' di alghe allora sono andato a cercare un alghivoro che tenesse in qualche modo sotto controllo no ma che spulciasse un po' fra le alghe e ho visto sui listini che apparire dei disticodus voi ricordate disticodus perché sono dei pesci sfasciato solo il soso generalmente voi ricordate pesci molto grandi però esistono delle specie di disticodus legate invece di minori dimensioni come questa questo si chiama disticodus teugelsi è una specie del Congo quindi non c'entra niente col moligwe sappiatelo però mangia alghe e vive in foreste inondate acque acide è vero però io non ho per ora velleità riproduttive e in acquario stanno funzionando molto bene e devo dire che mangiano addirittura anche le alghe a pennello sono dei pesci che mi piacciono tantissimo tantissimo rimangono piccoli 6 o 7 cm poi sempre spulciando quel benedetto quel benedetti listini una volta mi capita un'altra specie che è diffusa nel golfo della guinea sempre acque dolci gobio cicla gobio cicla non sono cromido tilapini gobio cicla sono tilapini ok sono parenti quindi di questa tribù sono dei reofili come potrete vedere dalle dalla struttura dalla forma fisica sono molto slanciati non hanno praticamente i visci canatatori sembrano dei piccoli serpentelli ok vivone in acqua è molto veloce nelle rapide si nutrono anche loro prevalentemente di copertura algale di afflux notate là il muso è molto particolare ok depongono in cavità e praticano si attuano un legame di coppia abbastanza debole allora questa foto in alto è una foto di un giovane questo quando mi sono arrivati praticamente quando mi sono reso conto che per cromish subivano troppo li ho spostati di vasca allora ho immesso dopo un po' visto che erano apparse le gobio cicla quindi diciamo circa maggio dell'anno scorso sono riuscito a a farmene arrivare nel negozio un gruppetto di cinque dove sembra avere una sembra avere una coppia eccola qua questa è la femmina scura e invece il maschio ha più colorazione come questa in realtà non mi spiego molto perché non c'è un vero dimorfismo sessuale legato alla colorazione questa colorazione scura indica un individuo che è territoriale il maschio detiene un territorio vero e proprio combatte anche quindi lo protegge lo difende da benito cromis ma ultimamente non assume più questa colorazione così scura non ne dia perché ecco ho quasi finito questo è un video di quando ho introdotto le gobio cicla l'anno scorso adesso vediamo se riesco a farlo partire notate calipterus ancora relativamente giovani questa probabilmente è una popolazione nigeriana perché è la più colorata e anche perché la nigeria è più facile importare lì notate il maschio di benito cromis che ha in questo momento una colorazione giovanile è una colorazione che tengono quando non sono in periodo riproduttivo e anche quando hanno un momento di stress oppure quando hanno un mood neutrale vogliono apparire neutrali e questo invece l'anno dopo c'è qualche alga come vi dicevo e questo come funziona qua notate le gobio cicla che difendono il loro territorio in questa area ok notate disti codus qua questo è il piccolo di benito cromis che adesso attualmente ha 7-8 mesi ok i disti codus i calipterus che sono là dietro notate che le zone dove c'è corre ecco qua vedete le gobio cicla qua maschio meno colorato più chiaro femmina la più scura ok notate che nelle zone dove c'era meno corrente ci sono i pesci nelle zone dove ci sono più corrente i pesci non le hanno per questo credo che ricreare un biotopo d'acqua così veloci non sia una non è una necessità perché o tu fai riesci a fare veramente una vasca dove hai un flusso molto omogeneo e molto turbulento altrimenti i pesci soprattutto i cicli competeranno tra loro per avere le aree più tranquille quindi movimento va bene perché avere qualcosa contro cui nuotare può essere comodo e può essere anche comodo per strutturare il territorio e l'ambiente però non è necessario perché è necessario avere una buona ossigenazione e avere una buona qualità delle acque credo di avere finito io praticamente sì vi ringrazio davvero per l'attesa e magari rimango a disposizione se c'è voglio di qualche domanda io chiudo la presentazione Andrea va bene sì sì va bene Livio grazie grazie moltissimo perché è stata veramente una presentazione appassionante e interessante e io a questo punto chiederei ai partecipanti alla videoconferenza se hanno qualche domanda da porre a Livio anzi vi invito a farlo prima che le faccia io le domande Livio scusa sono Lorenzo volevo chiederti ciao ti volevo chiedere una cosa diciamo vabbè partiamo dal fatto ho avuto la fortuna di vedere poi dal vivo i pesci a casa tua no quindi sì 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 posso confermare io come testimone insomma che sono dei pesci veramente belli e interessanti prima del lockdown diciamolo perché sennò poi si pensa male esatto no ti volevo dire alla conferenza che fece l'unboy al congresso a settembre lui ci ha tenuto molto a specificare questo fatto delle popolazioni dei pervicacromi specialmente dei cribensis tu prima parlavi appunto del fatto che probabilmente molti importatori fanno casino li mischiano e i pesci si vanno a mescolare quindi lui diceva che tendenzialmente tenere questi pesci anche confini diciamo di preservazione da specie perché poi sostanzialmente come dicevi tu i fiumi stanno andando perdendosi poi lì in quelle zone perché sono i filoli veramente messi sotto torchio dalla diciamo dalla come dire dell'agricoltura eccetera lui diceva che l'unico modo per tenere questi pesci cioè raccomanda di tenerli solo se si riescano a reperire esemplari da persone che le hanno avuti da chi le ha pescati direttamente lì tu diciamo come ti sei orientato sulle stock list un po' per allora sì allora io prima di tutto sì l'unboy l'avevo sentito anch'io io ne ero consapevole già quando ho cercato di acquistare certamente allora sono conno di questo problema io però volevo a questo punto iniziare ad avere degli acquari con delle specie per impratichirmi prima di tutto un po' io ok con la gestione di queste specie e secondo non c'è sempre la possibilità di andare a farsi dare acquistare eccetera volevo andarci quest'anno ma mi ricorderò sempre che io stavo per andare quest'anno al meeting del West African Cyclists e hanno chiuso la Lombardia tanto per darmi idea poi quest'anno è andata così l'anno scorso invece non ho potuto per esigenza di lavoro io sono consapevole e lo capisco molto bene ho voluto comunque mettermi dal punto di vista di un acquariofilo qualunque che vada un negoziante e gli chiede una specie poi sta a noi ripetere questa cosa attenzione che soprattutto le specie di allevamento ci hanno fatto di ogni di ogni io ho cercato di andare su delle specie come su delle popolazioni come il Moliwe che è una delle più diffuse perché forse è una delle più facili da identificare poi certamente io fare il test genetico non sono in grado di farlo e non mi interessa neanche farlo nel momento in cui vorrò iniziare a preservare qualche cosa e o per farlo con scopo di salvaguardia della specie io questa cosa andrò da Werner o andrò da Lamboi o andrò da altri perché è un po' di gente adesso che a queste popolazioni c'è pure diciamo pure certamente io ricordo sempre una cosa nel momento in cui tu allevi una specie soprattutto di ciclidi che sono dei pesci molto plastici ti cambiano perché tu li allevi dando da mangiare dando dei cibi che non sono quelli che trovano in natura e tutte altre cose e quindi la morfologia cambia quindi la purezza della specie è un mito è un mito io non voglio dire che non bisogna starci attenti perché io su questo sono sempre stato molto rigoroso no agli ibridi no alle cose stiamo attenti cosa facciamo quindi però anche questo è ideologia andare alla purezza nel momento che tu allevi un animale soprattutto come un cichide dove la plasticità a livello di dentizione è davvero elevata tu lo vai a modificare lo vai a modificare e ci potrai citarti anche tutta una serie di esperienze in questo senso soprattutto con i ciprino non evadensi oppure quelli del insomma il famoso ciprino del deserto della valle della morte così che a levarli gli rispuntava la pinna anale che loro in natura non hanno cioè ragazzi stiamo attenti è un po' un mito ecco questa cosa qui della purezza ma non perché non voglia farlo scusami certo no niente e poi ti voglio dire un'altra cosa che secondo me magari può essere d'aiuto a chi si vuole approcciare a questi pesci non so se adesso lo sai non ti voglio mettere in difficoltà semplicemente le differenze tra il Cribentis e il Teniatus se uno vuole andarle a acquisire perché molto spesso i Cribentis li vendono come Teniatus allora sì allora i Teniatus sono attualmente solo le specie della Nigeria ok cioè quelli del Camerun quelli del Camerun sono diventati tutti i Cribensis quindi il famoso per Dicacromis Nigeria Red allora a parte che il Nigeria Red bisogna prima chiedersi se è un pulcher oppure un Teniatus perché in genere venduti dovete trovare il pulcher in Nigeria Red oppure il Teniatus di Nigeria Red allora a parte che sono linee di allevamento quelle di selezione ok quindi sul fatto che è vero che sangue ci sia in quei pesci non è più chiaro assolutamente diciamo che quelli del Camerun sono tutti i Cribensis e quindi ti troverai con certe conformazioni della caudale del maschio tipo nel Moligua ho fatto vedere forse posso andare a far vedere una fotografia ma io del maschio purtroppo solamente dei video perché le foto sono sempre riuscite male posso se volete nei prossimi giorni posso mettere qualche fotografia bisogna andare a cercare la caudale del maschio il problema sono le femmine perché le femmine sono quasi tutte simili e allora a questo punto diventa davvero l'onestà del venditore ma non tanto del venditore ma degli elevatori da cui sono partiti tutti questi pesci il Moligua è uno dei più facili perché ti trovi quelle puntinature nere sulla caudale dorsale gialla e poi solo dei punti neri e anche c'è un peducolo nerastro tutte le altre forme invece di Cribens sono altre popolazioni però in commercio già ne trovi pochissime poi sono mescolate ecco purtroppo c'è stata grande confusione c'è stata grande confusione a livello di vera rivendita ma per come è fatto il mercato e per quanto riguarda la cattura dei pesci grazie mille Livio ti posso fare una domanda? certo sono Roberto ciao Roberto ciao senti io ce l'ho avuti 5-6 anni fa me li avevano sostanzialmente me li avevano venduti come per Vica Cromis Moliwe poi ho avuto un problema nel senso che il mio maschio dopo poco è morto e quindi sostanzialmente non ho potuto far più niente quindi la mia coppia è finita lì però siccome si trova regolarmente nel negozio che ho vicino casa e lui li vende come per Vica Cromis Moliwe volevo sapere da te una cosa lui mi consigliò vivamente cosa che in realtà qui da quello che si evince dalla tua dalla tua presentazione non è vera lui mi consigliò di mettere in un'acqua molto tenera tanto è vero che io li mesi in un'acqua con 80-100 micro siemens e mi sembra di capire che invece in realtà qui ce ne vogliono 250 200-250 allora come hai visto io infatti ho messo proprio due tabelle una è quella di Uwe Werner poi certamente dipende anche un po' dai momenti in cui sono state presi questi valori diciamo che scorrendo i valori del Moliwe si trovano 70 micro siemens e si possono trovare si possono trovare quindi sì però il pH in genere non è acido è basico vivono anche a 200 micro siemens come hai visto perché le tabelle erano queste possono essere anche riprodotti i Moliwe sono i più semplici da questo punto di vista perché sono i meno esigenti i meno esigenti non è strettamente necessario arrivare così bassi di conduttività bastano anche i 200 se hai 70 se hai 70 comunque non mi viene da dirti no non tenere quelle acque oddio no no van bene anche quelle io però dalle mie parti l'acqua è molto dura è per nulla tenera e quindi già lavorare per riuscire ad arrivare ai 200 per me è faticaccia non so se mi riesco a spiegarmi ti spieghi perfettamente perché noi a Roma abbiamo un'acqua che praticamente dura altrettanto se non di più della tua quindi no il problema è che sostanzialmente siccome è un pesce che mi intriga se dovessi eventualmente riprendere una seconda volta a questo punto diciamo che un variare tra i 100 e i 200 micro sim mi sembra un valore di accettabile adeguato ecco perfetto perfetto il problema è l'alimentazione secondo me è quello che fa davvero del problema l'alimentazione è troppo ricca per me anche un giorno due di giugno settimana ci sta benissimo comunque a questo punto se tu mi dici questo evidentemente c'è bisogno di una masca già bella bella matura insomma sì sono pesci come vedete da vasche mature perché vivendo di detrito di altre cose eccetera non puoi andare sulle vasche asettiche oppure dove si foni costantemente o fai cose di questo genere no non richiedono vasche di questo genere devono essere vasche mature anche se io di per sé la mia vasca era partita da poco altro però avevo fatto partire prima il filtro poi butti dentro materiale cambi cose di questo genere quindi da questo punto di vista è proprio l'alimentazione che fa un po' la differenza la qualità delle acque mentre se tu uno volesse spostarsi sulle specie che dicevo prima wallaceo cromis eccetera ciò che fa la differenza invece è l'aggressività perché pesci di 12 cm richiedono vasche di minimo un metro e venti di lunghezza meglio un metro e cinquanta e poi soprattutto anche l'aggressività intraspecifica parlavo di questo e di problemi di batteriosi o altro quindi essere estremamente attenti con la qualità dell'acqua la pulizia del filtro e anche la quantità di cambi perché basta che sgarri una volta e hai problemi subito io mi sono accorto con gli alestidi perché gli alestidi sono un po' come questi pesci quindi questi caracidi africani devi stare molto attento con la qualità dell'acqua e quando io smettevo di fare il cambio settimanale partiva subito la bocca che iniziava a diventare un po' biancastra nulla di che però allora ho dovuto riprendere subito fare due volte alla settimana il cambio d'acqua e quindi io non ho ancora avuto modo di avere Wallachio Chromies volevo averne perché ho visto che c'era in un listino una popolazione che è quella generalmente che trovi in commercio ma poi è stato bloccato tutto e quindi non ho potuto ordinarli e bisogna stare in queste accortezze ok grazie mille Livio niente figurati se non ci sono altre domande te ne farei qualcuna io sì allora innanzitutto un chiarimento da quella piantina che avevi dimesso Livio ho capito che il Molive alle fine saranno tre chilometri due tre chilometri allora magari anche un pochino di più sì però è un fiume scarso uno rimane anche abbastanza perplesso che in un fiume così piccolo si sia riuscita a evolvere una popolazione così separata cioè è interessante per questo secondo me i fiumi sono interessanti perché sono ambienti molto più sfidanti rispetto al lago che è ambienti più stabili certo e quindi mi portavo a fare anche delle considerazioni se si è formato appunto un fiume che deve avere una certa stabilità e una certa costanza perché altrimenti non c'è il tempo proprio per un'evoluzione locale in tempi così brevi mi chiedo se hai visto la zona non so da Google Map o Google Earth che cos'è c'è un'ampia valle di raccolta di acque perché immagino che sia qualcosa del genere poi da quello che mi facevi vedere sfruttando un po' le mie conoscenze diciamo universitarie perché io sono un minerario quindi figurati come come si diceva all'università da noi avevo imparato l'arte mineraria l'abbiamo messa da parte da parte vedevo che si trova lungo una serie di picchi vulcanici ormai non più attivi il che mi fa pensare che fossero degli hot spot ossia delle zone da cui fuoriusciva del magma e quindi che fosse un magma potrei sbagliarmi lo sto proprio azzardando quindi con un vulcanismo abbastanza basico quindi non acido e quindi quello mi chiedo se anche le caratteristiche della scarsa conducibilità conducibilità e al tempo stesso del pH elevato non siano legate proprio al fatto che queste sono acque che scorrono su questo substrato tra l'altro dove non dovrebbe esserci termalismo perché se ci fosse termalismo la conducibilità andrebbe alle stelle eh sì onestamente Andrea non te lo so dire questa riflessione è interessante però perché allora quando vedi quella serie di isolette così col monte che era un vulcano certo pensi subito allo spot io a me veniva in mente le Hawaii però niente marino per quello potrebbe essere una spiegazione interessante non ho competenze per risponderti ma magari qualche geologo se lo chiediamo chi ha lavorato in Africa così ha qualche idea quanto meno mi è venuta la curiosità è un qualcosa che vorrei andarmi a vedere hai ragione può essere non ci avevo pensato devo proprio dirlo non ci avevo pensato è un'altra cosa che incredibilmente in alcune riprese che sono che hai presentato sembrava di vedere il fondo dei rivi di vulci perché incredibilmente anche lì c'è un substrato vulcanico rocce vulcaniche e sembrava veramente un pezzettino dei rivi di vulci ovviamente lì la conducibilità dell'acqua è completamente differente perché arriviamo a 2000 microsiemens al centimetro quindi figuriamoci è una salamoia quasi però è molto molto interessante questa una cosa una notizia più che altro per chi non è esperto e volesse avvicinarsi a queste a queste a queste specie di pesci e quanto sono reperibili da chi per cui anche facendo qualche nome non c'è mica problema è solamente un suggerimento e anche un ordine di grandezza di quello che può essere l'importo di un pesce di questo tipo allora quanto sono reperibili parli di per di che cromi scrivensi allora io ti dico che spulcio i listini dei due grandi esportatori importatori europei che quindi a meno quali che guardo io per queste specie sono ruine massa e aquarium glaser ok glaser e devo dire che queste specie come il cribensis e benito cromi nigrodorsalis sono presenti spesso quindi non c'è problema allora bisogna trovare dei negozianti che si riferiscono a degli grossisti italiani che hanno fanno riferimento a questi due ok perché sapendo che questi qua ce li hanno glieli chiedi in modo da riuscire a farli arrivare se devo fare i nomi adesso io cosa dico io ai tempi questi qua li avevo presi online da easy fish shop ok se devo fare queste cose perché è comodo io ovviamente è sempre preferibile vederli in negozio oppure vederli amici perché li puoi scegliere ti rendi conto se ci sono tutti maschi oppure se sono solo femmine cosa che non succede mai oppure se hai di due sessi roba di questo tipo però alcune volte ti trovi anche a dover decidere molto velocemente che ne so le gobiocicla le gobiocicla le ho viste molto raramente in offerta e allora ne ho preso un gruppetto cinque è vero sono poche costi dipende dipende dal periodo in genere quindi per un acquario d'acqua dolce sono costi diciamo da sui 20 euro ciascuno ok come individuo questi qua quindi diciamo non è un costo esorbitante però diciamo che all'interno dell'acqua dolce iniziano ad avere un certo un certo valore ok perché si confrontano con quali certi loro caridi oppure di certi cicli un po' più grandi gli alestidi ah no ma i alestidi io non li avevo non li ho lì dentro i barbus gli enteromius in genere invece hanno costi molto più bassi eccetera gli alestidi invece gli scodontidi quindi di queste cose eccetera invece sono forse anche superiori ai cicli tanto per darti un'idea infatti mi spiace credo che proverò a riprodurli perché almeno potrebbero veloci ho cercato a riprodurli hai detto una cosa che penso si sposi magnificamente al 99% dei presenti detto che quando li hai visti non hai saputo resistere quindi li hai comprati è così questo è quello che facciamo un po' tutti noi sì ma l'impulso poi non va bene perché non sai dove metterli però che dire va bene qualcun altro ha qualche domanda per Livio? a me ne è venuta in mente un'altra sempre Lorenzo Livio ti volevo chiedere una cosa sui benidocromis microtorsalis ma loro come funziona la riproduzione ok sono ovvi quindi fanno le uova poi il maschio prende le uova in bocca ma poi funziona come per le cromitopidilabia con terri perché io vedo le mie inizialmente solo il maschio ha le uova in bocca poi dopo i piccoli come dire si nascondono sia la bocca del padre che della madre sì sì allora si funziona così dopo che sono nate le larve in pochi giorni i due sessi se li scambiano e se li portano in giro io non ho mai visto tutti i due i sessi che ne portavano metà e metà io questo non l'ho mai visto non ho avuto neanche dei grossi come dire delle grosse produzioni perché attualmente questi pesci li ho dal novembre duemila e diciotto sì al massimo è stata una quindicina di esemplari di uova ok non so dirti ancora perché adesso sono curioso di vedere invece i sessi perché se no lì devo iniziare a lavorare davvero sull'acqua se mi ritrovo tutti i macchi e tutti i femmini perché a questo punto però devo dire se le passano le larve se le passano i piccoli se le passano come i cromi di utilapia ok e poi niente semplicemente questa è una domanda è un aneddoto rispetto agli emicromi prima quando hai detto che insomma gli elongatus spesso hai sentito di persone che mi hanno comprato un gruppo e ce ne sono trovati uno mi viene in mente la storia che ci raccontò Gianni di quando ordinò in realtà quelli lì erano emicromi fasciati quindi ancora più grossi ancora più cattivi ne ordinò di 25-30 la sera li mette in vasca ma la mattina dopo ne trova uno in una notte quello aveva fatto secchi alti 24 ma io li ho visti non so se tu li hai visti io mi ricorderò sempre questa cosa perché Gianni Ghezzi di Le Onde mi fa ah io dovevo comprare il fasciatus ma io penso che fosse un chili che doveva prendere allora gli dice prendine 30 30 allora l'altro va e dice fasciatus fasciatus 30 quello lo guarda è incredulo e dice c'è problema no problema glieli pesca tutti glieli dà e lui si è ritrovato con 30 fasciatus che sono fra le specie davvero di gestione più difficile e io l'ho vista in questa vasca da 500-600 litri dove ne ha messo un gruppettino ma non ce n'è cioè ne rimane uno fine però il fasciatus è anche peggio è proprio il peggiore peggio no era simpatico insomma però me l'hai fatto venire in mente prima questa storia perché è veramente simpatico non tanto per quei poveri pesce che sono morti però sono veramente per far capire quanto possono essere spietati sì sì sospettati sì bene bene allora se qualcun'altra qualche altra domanda la faccio ora o mai più perché andiamo a finire la serata pronto sono Mario ciao Mario attiva il video così ti vediamo sono io che ho fatto una sciocchezza volevo togliere una cosa ho fatto sbagliato no senti dimmi ho trovata incompleta la presentazione perché non ci hai parlato Livio del pelvicacromis l'ifalili no pelvicacromis o emicromis no sto dicendo pelvicacromis l'ifalili quello è un ibridone direi no 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 ti stavo solo prendendo in giro ma questo l'ho capito Mario va bene Livio complimenti bellissime presentazioni grazie grazie mille sono uscito ci sei ci sei ti vediamo io non mi vedo più devo aver fatto una sciocchezza va bene ok Livio veramente una presentazione appassionante grazie che mi è piaciuto tantissimo invito tutti i partecipanti ad attivare il video così diamo anche un volto a questi nomi e ci ci vediamo ricordo a tutti i partecipanti innanzitutto l'evento di domenica prossima domenica 19 in cui IC e CIR continuano a unire le forze in questo periodo di diciamo quarantena alle 14 e 30 correggimi se sbaglio no è giusto è giusto ci sarà un susseguirsi di interventi di mini interventi per una per un pomeriggio dedicato ai ciclidi quindi daremo notizia più nel dettaglio da domani sul sul sito facebook sia del CIR che è dell'IC e poi ci diamo appuntamento anche alla prossima settimana giovedì prossimo dove il socio CIR Roberto Taglieri che in questo momento vediamo tra di noi presenterà per la terza puntata del della serie Un fiume alla volta il Rio Uruguay bene quindi grazie a tutti e buona serata a tutti quanti grazie a voi ciao 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 a tutti grazie ciao 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 grazie grazie complimenti grazie ciao complimenti allora come si chiude